Vediamo se io ti voglio baciare Ti stai lamentando di qualcosa? Sì, ti stai lamentando di qualcosa Ecco, è tutto sporco il tavolo Guarda, non hai fatto niente, vai a pulire Ma scusa, perché devo pulirlo io? Ti do una rosa Mangiala, ti farà bene Ciao raga, come state? Tutto bene? Oggi abbiamo deciso di fare finalmente il nostro studio tour L'home tour Un po' particolare Sì, perché non l'abbiamo fatto noi In realtà ci sono stati due ragazzi Thomas e Simone Che praticamente hanno ricostruito su The Sims Il nostro studio Ma perfetto praticamente Io ho già visto delle cosine e ho sbiucciato Solo che sono di due periodi differenti Uno è dedicato a Natale E quindi c'è ancora l'albero di Natale Tutta quella location che è stata fatta da Simone E l'altro invece è da JDC and Thomas Che l'ha fatto più contemporaneo Più dedicato a Wake Up e al format che abbiamo creato C'è anche Queen Queen ci sei anche tu dentro The Sims Sì, mi ha fatto così E quindi ora volevamo fare la reaction di questi video Io non è che li ho visti proprio Dai, vediamoli adesso Io li ho fatti andare un po' velocemente E ho detto, no, bellissimo Mandatemi in alta qualità che così facciamo una reaction Facciamo proprio un contenuto Dai, ci so Partiamo Partiamo, guardiamo i video Praticamente siamo vestiti identici Questa qua è la ricostruzione fatta da Simone Todaro Totaro Eh, ma io lo so, lo so, io lo faccio Ah Ma io ho ancora i capelli violi È una diattriba Tra me e lui perché mi aveva bloccato su... Deci mostare Questa qua è la sala streaming Dove ci sono io che canto Molto irreale Molto irreale Però è precisa Cioè, guarda le pareti Guarda il pavimento Sì, è vero Pareti e pavimento ci sono Però non c'è l'impianto col microfono È vero Il microfono non c'è E tu direi che proprio Però Se una persona non è andata a cantare Dicembre 2020 c'erano sia le chitarre che la pianola Ah, è vero E quindi secondo me è riadattato in quella maniera È vero Però il salottino lì nell'angolo non c'era No, c'è un altro tipo di tavolo Bello, guarda qua Lo studio è qui Dove siamo noi ora? È identico È identico? Ok, ora dove è che stiamo andando? Al piano superiore Sì Ok, il piano superiore Ma chi è quella? Io? No, forse sono io Sei tu, ma sei biondo? No, questa sono io Questa sono io dove vado? Cosa stai facendo? Guarda le mensole Sono identiche Ah, sei sul tuo set Ma ti manca il tavolo Quindi sei un po' dubbioso Mi starei chiedendo Ma Luca dove l'hai messo? Il tavolo? È sempre stato qui Dov'è ora il tavolo? No, vabbè Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Ti stai arrabbiando? Cosa ho fatto? Tipo Tasmania Ah, ti sei cambiata? Mi sono cambiata? Eccoci qui Siamo qui sul set Sei tu Questo era il nostro divanetto Sì, è il vecchio set Qua c'era l'albero di Natale E dietro a questo sfondo Ci sono ancora le Dove mi hai dato il bacio rubato Le piastrelle Poi sì, lì c'è la regia Carino Però il ring non è da questa parte Ma è dall'altra, no? Eh no, lui l'ha messo verso anche l'altra parte Perché alcune volte avevo In quel periodo avevo fatto Twitch Stando seduto dove c'è la regia Ah, è vero È vero Sì, sì E quindi bisogna ricollegare tutto Qua che cambiamo le cose molto velocemente Hai visto cosa ha messo dietro quel quadro Che era quel quadro che avevamo dietro Con la lampadina Con la lampadina Uguale L'albero di Natale gigante Io che bacio qui sotto l'albero di Natale Ma bellissimo Grande Simone Totaro Grande Grazie Ora passiamo al video di JDC and Thomas Dove, vedi, ormai siamo sempre vestiti uguali Guarda, guarda, lo stai ricreando proprio da zero Ah, qua vediamo proprio la costruzione Non è il tour virtuale Ah, wow, bellissimo Questo qua è l'esterno col mosaico che non c'è Sono dei pietrini bruttissimi Ah, è una tenda Ah, questo qua è il box Ah, sta cercando il box adatto Guarda quante cose sta toccando nel mentre E dice questo no, questo no Ah, per fare il suo progetto secondo me 3-4 orette sono partite Sì, sicuro Anche perché se sai com'è già la casa Ti è facile Però no, adesso che ci pensano Uno che prende una casa nuova e non sa come arredarla Può fare questa roba su The Sims È vero, assolutamente Perché così vede se là stanno bene le tende Se non ci stanno bene Perché cavolo era proprio super reale Quello che anche lui guarda come Guarda No, vabbè È identico Con l'americana, le luci, lo sfondo Che vabbè in Milano non c'è Identico Ma come è possibile Ma come ci è riuscito Ma questo cos'è? Sai che cos'è? Che noi non abbiamo mai fatto Ah, non aveva la vasca di dromastaggio Non abbiamo mai fatto un home tour Uno studio tour E praticamente Voi avete visto dai nostri video Da vari video Varie location E le avete collegate In modo tale che Secondo me sai da quale video Si capisce bene Da quale? Dal video dove facciamo la guarda d'acqua Ah, può essere Perché si vedono bene tutte le stanze collegate Ve lo lasciamo nella info Così lo vedete Guarda il mio specchio con le luci Ma È il secondo piano Questo è il secondo piano Sì, guarda là Vabbè È stato fatto bene comunque Sì Sì Il problema secondo me è che La ricerca di tutto il materiale Qua io sarei stato un po' in difficoltà Di andare a creare Questo arredamento Come fa a sapere Che adesso la televisione È sul mobile Marco io è assurdo Speriamo che non ha messo Anche dov'è la cassaforte Sei uno stalker Guarda La sedia del dock È tutto Identico Se ha fatto anche il tavolo Il porta console Con la mia collezione di console Impazzisco Chiudo l'internet Giuro No vabbè Le tende Le chitarre Non ci credo Sono identiche No sono identiche Identiche No no Non mi dire che ora Fai il tavolo con le console Il porta console Lo sta facendo davvero Ma le console come fai a recuperarle Ce le ha Ce le ha Le mette Guarda Guarda Non ci credo Le console Spegnete internet ora Il divano La sede è identica Raga è incredibile No vabbè Anche il fuori È questa Eh sì Cioè È incredibile Ma scusa ma il fuori con l'autostrada Ma come faceva a saperlo Pure il cancello ha fatto blu Ok ora c'è il tour Ok entriamo Bene E qua siamo dove siamo ora Col tavolo di wake up Bellissimo Si va al secondo piano Ci stiamo incastrando un po' Buggando un po' Nel sistema Ma guarda La roba con cui mi alleno La mia palestra Però non era così Ovviamente Le mie console Ma com'è possibile Ok siamo ritornati giù E andiamo ok L'armadio con lo specchio Sala streaming Wow Sì Bella Qua il corridoio È identico La credenza Il bagno Con l'ulivo in bagno La sauna Che effettivamente abbiamo Una sauna Lo specchio con le lampadine È perfetta È casa nostra È la nostra casa Eccoci qua A noi ci fa dare un bacino Ah guarda Tu che dai bacini a Queen Così E a me Vediamo se io ti voglio baciare Ti stai lamentando di qualcosa Sì Mi sto lamentando di qualcosa Ecco È tutto sporco il tavolo Guarda Non hai fatto niente Vai a pulire Ma scusa perché devo pulirlo io Ti do una rosa Mangiala Ti farà bene E l'hai mangiata E ora ci guardiamo Basta finito Ci stiamo guardando Ci siamo buggati E ci dobbiamo continuare a guardare così E bagiare Comunque è incredibile come Ci avete vestito entrambi Sia Simone Totaro Che JDC e Thomas Nella stessa idea di cabaniera Scusami Lei t-shirt bianca e jeans E io t-shirt nero e jeans Che rispecchia appieno quello che è Sembra una Barbie Guarda Beh infatti io devo ritornare bionda Ma tu sei bellissima Con qualsiasi colore Ti lo giuro No e comunque mi farò bionda Lo sai che ritorno bionda Come in The Sims Bionda platino Bene Questo qua era il nostro Office Home Tour E spero che vi sia piaciuto Se così fosse Lasciate like Cliccate sulla campanella Andate a vedere il canale di Marta Rossi E in descrizione Metterò anche il canale Di Simone Totaro E JDC and Thomas Che sono stati bravissimi A realizzare questi Home Tour virtuali Oltretutto Simone Totaro È anche uno degli amministratori top Che ci sono Nei vari gruppi Ci dà una mano A gestire le varie cose Sì sì È un pro È un pro Quindi grazie ragazzi Per essere stati con noi Ci vediamo alla prossima Prossima puntata Ci vediamo Alla prossima Ciao Ciao Ciao